Sistema di monitoraggio del Ponte Vecchio staccato, minoranze all'attacco dell'amministrazione Pavan. Ennesimo incidente sulla Val Sugana, due feriti e centro di Rosà ostaggio del traffico per ore. Violenza sulle donne, aumentano nel Bassanese gli ammonimenti da parte del questore. Giovane arrestato, aveva in casa una serra di piantine di marijuana, ha trovato anche Ashish. Fermato per un controllo dai carabinieri, nasconde la droga nelle mutande e finisce nei guai. Coldiretti in prima fila per dire no alla carne sintetica, nella lista ci sono anche salmone e laffe artificiali. Nonostante la siccità, l'oro verde della Pedemontana scorre nei Frantoi, stagione olearia importante. Asiago punta ad essere capitale delle stelle grazie al progetto internazionale Skyscape. Viaggiava con l'auto senza assicurazione, il giovane vittima di una truffa. Buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione serale di Bassano Tg. Apriamo subito il nostro telegiornale dal centro di Rosà, che è rimasto anche oggi paralizzato per l'ennesimo incidente avvenuto sulla statale Val Sugana, dove due camion e due auto sono rimaste coinvolti in un pauroso tamponamento a catena. Guardate. Ancora uno schianto sulla Val Sugana, ancora sangue sulla statale, ancora una volta il centro di Rosà ostaggio per ore di colonne infinite di auto e camion. All'ora di punta di pranzo, verso le 12, quattro mezzi sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente, nel tratto della statale 47, denominato Via Mazzini, all'altezza del distributore Eni. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, pare che la motrice di un camion abbia tamponato un'altra motrice, che a sua volta è andata a sbattere contro una 500 ferma sulla carreggiata per dare precedenza a un Audi che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto fra le due vetture è stato tanto inevitabile quanto violento. Il sinistro ha letteralmente paralizzato l'arteria durante le operazioni di soccorso dei feriti e di rimozione dei mezzi incidentati. Le due persone che erano nelle automobili sono state portate in ospedale, le loro condizioni sono serie, ma non versano il pericolo di vita. Sul posto i sanitari del SUEM e i carabinieri della compagnia di Bassano per la gestione della viabilità impazzita e per i rilievi di rito. Il traffico di tutta la zona ne ha risentito e solo nelle prime ore del pomeriggio la situazione è tornata lentamente alla normalità. È stata appena liberata la statale Valsugana qui a Rosà, chilometri di colonne, traffico completamente bloccato, siamo praticamente nell'ora di punta, cominciano a muoversi adesso i primi mezzi pesanti, ci vorrà un bel po' per smaltire tutto questo. Per l'ennesima volta Rosà è teatro e ostaggio di un incidente a pochi giorni dal tragico investimento costato la vita a suor Ferdinanda Ferraro, travolta e uccisa da un camion sulla statale mentre andava a messa. E l'eliminazione del sistema di monitoraggio elettronico del Ponte Vecchio mette in allarme chi ha seguito il restauro del monumento nazionale nella precedente amministrazione comunale. Vernice che si scosta, un sistema di monitoraggio che non è stato pare più riposizionato e quindi una fetta di quel patrimonio di conoscenze, di comportamenti, di atteggiamenti nei confronti del ponte che già comincia a erodersi. Il sistema di monitoraggio elettronico del Ponte Vecchio è stato spento o dismesso. Insomma, pare proprio che non ci sia più. E così il monumento nazionale si ritrova con la vernice scrostata, con una manutenzione rappresentata dalle ragnatelle sui rampadari e proprio nei giorni in cui si parla del nuovo percorso Unesco con una situazione che a volte lascia perplessi anche i bassanesi e i visitatori. Sono in molti a rimanere stupiti per l'assenza di cure riportata anche nel libretto di istruzione del Ponte Restaurato e per lo spegnimento di un sistema che fotografava ogni minimo spostamento della struttura. Nei decenni precedenti non si era lavorato nell'ottica della manutenzione continua e si erano accumulati tali e tanti problemi da rendere poi necessario un intervento radicale. Un concetto di cura e manutenzione di conoscenza approfondita e gestione di una creatura vivente come può essere un ponte di legno e metallo che passa su un fiume, dei mille volti. Ecco perciò cosa chiedono le minoranze all'amministrazione di Elena Pavan. Chiediamo con forza all'amministrazione comunale di occuparsi anche di queste cose, non soltanto della parte più visibile, forse anche, aggiungo, politicamente più gratificante che è quella dell'inaugurazione, dei tagli dei nastri, delle fanfare, delle personalità pubbliche, certamente anche del riconoscimento UNESCO che noi per primi abbiamo chiesto che è fondamentale, ma queste cose si fanno se c'è la sostanza. La sostanza è un monumento che sia sempre, ripeto, sempre al massimo del suo splendore. E sono stati dati oggi in Questura Vicenza i numeri degli ammonimenti emessi anche nel Bassanese per contrastare la violenza sulle donne. Nel 2022 emessi nella provincia di Vicenza 112 ammonimenti in più rispetto allo scorso anno. Di questi il 78% riguarda la violenza domestica, il 22% atti persecutori. Degli ammonimenti nel Questore l'88% è relativo a partner o ex partner e, giusto per sfatare un pregiudizio purtroppo assai diffuso nel nostro paese, solo il 33% delle vittime degli episodi oggetto di ammonimento sono cittadine straniere. Sono i numeri della Questura di Vicenza diffusi in occasione della campagna contro la violenza di genere in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, considerando che l'ammonimento del Questore permette di intervenire subito in fase preventiva al fine di evitare che comportamenti persecutori possano sfociare in eventi tragici e il Bassanese non ne è escluso. Lo serve per far capire anche alla persona che maltratta che c'è un'attenzione, si viene posta un'attenzione nei suoi confronti, si invita, anzi quasi si obbliga a percorrere un percorso di recupero della propria vita anche e soprattutto si segnala e si protegge quelle che sono le vittime. E' un 21enne stato arrestato dai carabinieri per coltivazione e spaccio di droga. Deve rispondere di coltivazione e detenzione di marijuana e hashish ai fini di spaccio, un 21enne bassanese finito in manette. Tutto è partito dalle segnalazioni di cittadini che indicavano l'area verde nei pressi del Col di Dante a Romano come luogo solitamente frequentato da giovani dediti al consumo e allo spaccio di droga. I carabinieri hanno identificato due persone, l'arrestato e un coetaneo di Romano, che sono parsi subito molto agitati. Esito negativo dalle perquisizioni personali e del veicolo, i militari si sono recati nell'abitazione del 21enne, trovando sei vasi pieni di infiorescenze di marijuana, un pezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Inoltre in camera da letto era stata allestita una serra dentro la quale c'erano piante di canapa in piena fioritura. Per il giovane è scattato l'arresto. E a Breganze un altro arresto per spaccio di droga con un 25enne che aveva nascosto lo stupefacente negli slip. Nascondeva più di un etto di droga nelle mutande, fermato nella zona industriale di Breganze per un controllo, nei guai un 25enne del posto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Al volante di un'auto di grossa cilindrata, visto il suo atteggiamento molto nervoso, i militari hanno approfondito le verifiche fino a scoprire un panetto cilindrico di marijuana avvolto in cellofan occultato appunto negli slip. Nella sua abitazione sono stati trovati sacchetti intrisi di sostanza stupefacente. Il 25enne è stato arrestato per detenzione illecita di droghe. Il giudice ha deciso per lui l'obbligo di firma. Raccolta firme dalla Coldiretti per dire no alla produzione di cibo sintetico. Carne sintetica, ma anche salmone, olio, latte e miele prodotti direttamente in fabbrica. Un'idea che farà brividire la produzione agroalimentare made in Italy, che si maschera dietro un discutibile mix di ambientalismo e tutela della salute. L'America ha detto sì, ora il rischio è che nei prossimi tre anni anche in Europa ne siano concesse produzione e vendita. In Italia, seppur il bel paese si sia messo di traverso, si è già registrato un 18% di gente che potrebbe anche essere favorevole a quello che agricoltori e allevatori chiamano cibo finto. Nel Bassanese e nella nostra regione, la Coldiretti sta portando avanti una battaglia decisa per tutelare non solo le produzioni locali agroalimentari, ma anche ambiente e territorio. A noi abbiamo già iniziato una raccolta firme e che per la provincia di Vicenza abbiamo già raggiunto oltre 3.500 firme. Abbiamo presentato la bossa di una delibera in appoggio alla nostra posizione, cioè di bloccare la possibilità di realizzare della carne sintetica in Italia. Come si può pensare che vada a sostituire la carne vera? Ma assolutamente non va a sostituire la carne vera. è una simulazione di carne e sfruttano il fatto dicendo che l'allevamento, soprattutto nella pianura padana, è un allevamento intensivo che va a inquinare e per cui per non inquinare è bene fare le fabbriche della carne. Se noi teniamo in considerazione che un allevamento di 100 vacche lavora 30, 40, 50 campi o di conseguenza 25 ettri di terreno con delle coltivazioni, che queste immaginizzano CO2. E cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo effettivamente quelli che vogliono far credere come inquinatori dell'ambiente. Siamo soprattutto allevamenti, soprattutto in questo periodo, sostenibili anche a livello ambientale. E terminati i lavori di raccolta e sfremitura delle olive, ora si fa il punto della situazione sulla produzione di olio extravergine 2022. Conclusa la raccolta delle olive, spremuti gli ultimi frutti, si traccia un primo bilancio di questa stagione olearia 2022. Diciamo che non tutte le zone hanno dato la stessa resa, la stessa media, per cui nell'asolano, in alcuni punti anche di pove, la produzione è stata limitata, ma mediamente è stata elevata, è di ottima qualità. L'olivo ha superato bene la siccità e quindi abbiamo ottenuto i oli con ottime caratteristiche. Anche per quanto riguarda la quantità? Sì, dove hanno prodotto? Hanno prodotto quasi come due anni fa ed è risultato un olio eccezionale con bassissima acidità, come tutto l'olio della Pedemontana, con pochi perossidi che sono quelli che segnano un po' la durata dell'olio nel tempo e ricchi di polifenoli che sono tutte quelle sostanze antiossidanti, antisclero che fanno bene, quindi profumi e tutto il resto, quindi un ottimo olio. A darci i numeri dell'olive spremute è la responsabile del frantoio di Pove del Grappa. Attualmente abbiamo già lavorato quasi 6.000 quintali di olive, quindi i numeri sono con una resa media del 12-13% di produzione. Ecco, tra l'altro vogliamo ricordare che in questo frantoio viene un'intera comunità. Sì, beh, questo è un frantoio cooperativo e attualmente siamo quasi arrivati a 700 soci produttori di olio, quindi un gran numero di produttori. E c'è da sottolineare come la siccità abbia evitato la presenza della mosca o le aria a vantaggio della produzione. Questo ha permesso di non spendere soldi in trattamenti di tutta l'area e l'ambiente e soprattutto di avere un olio proprio privo di acidità. Asiago punta ad essere capitale delle stelle grazie al progetto Skyscape, un progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato con i fondi europei. Ci troviamo ad Asiago, più precisamente in località Caberlaba, nei pressi del Museo dell'Acqua e oggi abbiamo inaugurato la piazzola dedicata al progetto della valorizzazione del cielo notturno Skyscape. È una piazzola delle stelle questa? Questa proprio vuole essere una piazzola attrattiva per incuriosire non solo gli appassionati, gli astrofili che già conoscono questo posto come posto ideale per l'osservazione delle stelle ma incuriosire tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi all'osservazione del cielo stellato notturno ad Asiago. Asiago è sempre più capitale delle stelle. grazie proprio a Skyscape, il progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato con fondi europei. Questa mattina è il taglio del nastro della piazzola di Caberlaba attrezzata appunto per l'osservazione della volta celeste e poi una seconda inaugurazione, quella del sentiero dei pianeti, il percorso denominato da Asiago alle stelle che riproduce in scala l'intero sistema solare. Questo è il Sole, spostandosi lungo il percorso si possono osservare i pianeti per un vero e proprio viaggio nello spazio. Un percorso di 5 chilometri che conduce fino all'ossario attraverso le contrade del pennare e degli zocchi. È tutto in scala? Sì, con la stessa scala sia le dimensioni che le discanze. La scala è di 1 miliardo che significa che un metro, cioè ogni passo che facciamo, equivale a un milione di chilometri, mentre un millimetro corrisponde a 1000 chilometri. Quindi i pianeti interni, quelli più piccolini come la nostra Terra, hanno le dimensioni di pochi millimetri. Ed eccola infatti la nostra Terra, una piccola biglia azzurra. Prima invece abbiamo incontrato Mercurio e Venere, mentre allontanandosi lungo il sentiero si incontreranno tutti gli altri pianeti. Plutone, ad esempio, è posizionato nel piazzale del Sacrario Militare. È con questo progetto che Asiago punta sull'astroturismo. Due pastori della Val Sugana che più volte hanno portato il greggio sull'altopiano e sul grappa sono stati ospitati con le loro 1500 pecore da un sindaco che lancia anche un appello ai colleghi. Sentite. Gli altri sindaci le multano e allora lui le ospita. Nessuno vuole questo greggio sui suoi campi e allora il sindaco di Follina ha deciso di portarle non nel suo comune ma proprio a casa sua, a Cison. Una storia di ambientalismo e solidarietà che ha visto protagonisti due giovani fratelli che fanno i pastori, per passione, 1500 pecore e Mario Collette. Martino e Francesco sono passati a trovarmi, a regalarmi come ogni anno una meravigliosa atmosfera natalizia e io approfitto per ringraziarli non solo perché hanno scelto di fare un mestiere che è molto duro e molto faticoso ma anche perché sotto l'aspetto turistico vedo che la gente si ferma, parla con loro, li accetta e capiscono anche loro benissimo cosa vuol dire fare una vita così difficile. Per questo ha aperto i cancelli della sua casa ai piedi del castello di Cison. ai due giovani di Borgo Valsugana che hanno deciso di fare i pastori come scelta di libertà. Lo facevo prima mio papà e mio nonno e dopo perché la vita si infabbrica non è che mi piacerebbe. Una scelta però con molti ostacoli. Difficoltà ce ne sono tante perché oggigiorno anche i comuni non ce ne sono tanti che ti lasciano transitare. Multe anche di 400 euro ad ogni passaggio. Per questo il sindaco Colletta ha ospitato il gregge in breve raggiunto da amici, conoscenti ma anche da semplici curiosi di passaggio che si sono fermati per l'immancabile selfie tra le pecore. Pecore che hanno potuto alimentarsi e riposare prima di riprendere la strada verso un altro appezzamento sì di buon cuore ma che grazie a questo passaggio beneficerà della concimazione gratuita e naturale. Ecco perché oltre ad essere una storia di solidarietà e libertà è anche di ambientalismo che a guardarci bene potrebbe diventare pure di attrazione turistica con Colletta che lancia un messaggio ai colleghi sindaci. Io dico se vogliamo veramente ritornare alla natura e rendere grazie a questi ragazzi dobbiamo come minimo farli passare perché purtroppo il nostro signore non ha fatto le ali alle pecore. e nella giornata Fai Scuola parliamo di studenti alla scoperta delle bellezze del Duomo di Santa Maria in Colle. A lezione di storia, arte, bellezza alla scoperta di uno dei gioielli della città di Bassano. Così per il progetto Fai Scuola il Duomo di Santa Maria in Colle si è spalancato agli studenti con guide d'eccezione e gli apprendisti cicerone delle scuole superiori. Una bellissima attività per promuovere comunque quello che la nostra città può offrire e poi è stato molto utile anche personalmente perché mi ha fatto capire che probabilmente è una strada che potrei intraprendere anche nel futuro quello di fare la guida comunque. Personalmente posso dire di averlo fatto per un interesse che provo in realtà per l'arte per la cultura in generale e anche per un piacere mio personale che invece provo nel condividere queste mie passioni e in generale questo patrimonio che abbiamo. Attrazione speciale la restaurata Pala di Leandro Dal Ponte che ha catturato l'attenzione dei visitatori. Cosa vi è piaciuto di questa visita? A me è piaciuta principalmente la Pala essendo come lo spiego essendo una cosa che per la prima volta mi ha interessato molto e spero di parlarne con i miei genitori per studiarle e guardarle un po' meglio. Gli affreschi sul soffitto che sono molto belli insomma ma anche l'estato di quarzo mi pare o di marmo sono proprio belle sì. Ora vediamo altre notizie del territorio in breve. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini il comune di Bassano ha stanziato 100.000 euro per un nuovo intervento risistemazione degli alberi in città. Realizzata una mappatura a breve gli operai interverranno sulle chiome delle piante. Sostituiti gli infissi del primo piano della scuola materna di Enego. Si tratta di un primo intervento in vista di un efficientamento energetico complessivo dell'edificio comunale assicurando un importante risparmio. Venerdì 25 novembre a Tiene verrà piantato nel parco Norma Cossetto un albero di gelso. Contestualmente sarà installato un fiore artificiale per celebrare tutti i nati del 2022. Viaggiava con l'auto nuova senza assicurazione ma convinto di averla pagata. Un ventenne è stato fermato dalla polizia locale di Campo d'Arsego e il giovane purtroppo era stato vittima di una truffa. Guidava la sua nuova Golf e senza alcun timore si è sottoposto al controllo della polizia locale del Campo San Piero una settimana fa a Campo d'Arsego. Grande la sorpresa quando gli agenti gli hanno contestato la mancanza di assicurazione. I vigili convinti della sua buona fede hanno avviato un'indagine che li ha portati a scoprire una truffa. L'assicurazione infatti era stata stipulata attraverso il broker di una compagnia telefonica che si era fatto pagare con un metodo insolito la ricarica di una carta post-pay il metodo più usato in questi casi. I documenti ricevuti via mail all'apparenza regolare erano invece stati contraffatti non una storia lieto fine per la vittima della truffa che oltre a dover rifare l'assicurazione del veicolo ha perso 5 punti della patente e dovrà pagare una sanzione di 868 euro. Prima serata con Focus il nostro direttore Luigi Baccialli ospiti questa sera saranno Fabrizio Boronna Roberto Marcato Giuseppe Montuori Vivian Moro Alessio Morosin Rosa Poloni Alberto Ruggin Francesca Zaccariotto quindi appuntamento a partire dalle 21.15 ora diamo spazio alle previsioni del tempo di domani non ci sono altre notizie per questa nostra edizione ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia arrivederci